Il primo dicembre si voterà per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'ADUC, i usi civici di Preturo che raccoglie diverse frazioni del territorio, la scadenza naturale a novembre, ma il percorso per arrivarci al voto è stato tutt'altro che agevole, perché ci sono state tante frizioni, non di poco conto, tra l'attuale maggioranza e i consiglieri di opposizione, come spiega Gianmarco Cianca. La situazione è stata pressoché imbarazzante, perché dal dicembre dello scorso anno il Consiglio ha tentato di approvare una proroga, mettendola a maggioranza dei voti dei consiglieri, chiedendo rispetto alla scadenza naturale di novembre di quest'anno una proroga di praticamente dieci mesi per settembre 2025. Ci siamo da subito detti contrari, chiedendo il rispetto ferreo e estreno dello Statuto, delle regole e della legge, perché era una manovra totalmente illecita e illegale. È stata convocata un'assemblea domenica scorsa per chiedere alla cittadinanza, ai residenti delle frazioni, quindi avevano diritto di voto in quanto utenti, di ratificare questa proroga di dieci mesi, ma chiaramente la popolazione che è fatta di buonsenso e che ha capito quello che era il loro gioco, hanno bocciato con una maggioranza di oltre il 90% dei presenti. Capite che c'è stata una sorta di sfiducia a quella che è la propaganda di questo Consiglio di Gestione, che ha chiesto una proroga per provare a legittimare interventi, conclusioni di eventi, attività che avevano posto in essere, dimostrando anche totale inadeguatezza a livello organizzativo, a livello di gestione anche del tempo a disposizione. La scadenza era novembre, non si poteva fare altro che votare nella settimana immediatamente successiva. Voi scenderete in campo, immagino, per questa scadenza di dicembre? Assolutamente sì, perché la nostra visione del territorio è radicalmente diversa rispetto alla loro. Nessuno è voluto entrare nel merito della bontà, delle attività che sono state poste in essere. Si poteva fare meglio, si poteva fare peggio, non sta a noi dirlo, lo stabilirà la popolazione. dal canto nostro vorremmo improntare un percorso di crescita territoriale fatto non solo di contatto con il territorio, ma soprattutto di trasparenza.